Ma io no, grazie a Dio, il mio capitano è, quando gioco io a Garcetto, con i miei amici altri, i giovani, i capitani che ho io sono altri, grazie a Dio, è molto più riferimento. E il capitano è bravino, stai andando molto per il sottile. No, io faccio questo mestiere da 20 anni, ho iniziato col papà di dopo, e io i capitani mi ricordo, la settimana scorsa ho fatto una piacchierata, l'istituto di timore, dove ho fatto una mamma che ho detto, me lo posso dire, mi erano Nicolta Curta e Riccardo Ferro, sono venuto via, mi veniva la piazza, avevo un magone così, nel vedere come erano quei, che non è che adesso sono passati tre secoli, nel vedere B, Nicolta Curta che passava per il Fighetto, Antipatico, via dicendo, è uno che come c'era meglio, rispetto a qualsiasi oggi è un primo Nobel. Ecco, saputa, in queste ore impegnato, è incaricato dalla città, non è altro, certo. Vergomi Riccardo Ferro, che scherzavamo, io rischiavavo sempre con Riccita, che dicevo, eh Riccita, ma poi allora per i tanti capitani, cioè nel mio allenamento, potrei provare più di un capitano, no, 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 parlo, lasciamo per lì, parlo volutamente degli altri. Ragazzi, io parlavo con dei giocatori del Milan che dal punto di vista, torno a dire, professionale, uso la parola professionalità, erano due spalle superiori a quelli che mi tocca andare a comunicare oggi. Quindi poi tu puoi cambiare dal natore, perché per la società, puoi dire che Zan e Zan e Zan e Zan e Zan è conclamato, va bene, pregherita l'unica, che Borazzi spaglia, spende, che hanno fatto un sacco di errori, non hanno fatto tutto quello che vuoi, ma essenzialmente il grosso problema delle due finalità è di non avere giocatori particolari. Allora, nel corso di tutta la serata ovviamente dovremmo scandagliare tutte le parole, i passaggi chiave di Spalletti, in questo momento magari estraiamole in particolare, siamo ancora a 48 ore dalla fine del mercato. Spalletti la spiega così, fate attenzione. Allora, per quanto riguarda, per quanto mi riguarda, per quello che penso io, il vero, diciamo, smacco del mercato è non essere riuscito a proteggere i nostri tifosi dalle false aspettative, perché poi naturalmente vengono trasformate in grandi delusioni. e questo, poi di questo, ne risentono soprattutto gli sportivi e si crea poi un malessere fra gli sportivi e fra quello che è il mondo che si lavora da dentro e che si ha, voglia a cuore il sentimento adesso, quelli che sono nostri tifosi, che sono la nostra squadra. La seconda parte è un po' più... Sì, ma da chi arrivano le false aspettative? Sì, ma se gli interi suoi 44 procuratori, gli avesse distribuiti in modo diverso, magari non facendo questi due mesi bruttissimi, prima di loro, non so cosa succederà domani, ma devono essere distribuiti magari con un maggior criterio, per una partita, per un inciduo, per un ricordo di un inciduo, probabilmente non avremmo la sensazione che, io giro sito, social, tutte le cose, giro quest'anno, sembra che noi siamo tundicesimi, destinati a vivere un anno, ripeto, dovesse il foglio. Sai guarda che forse il tifoso, non dico tutti, però c'è una parte del tifoso che presenta dicendo che sono anche illusi di poter vincere lo scudente, perché quanto vuoi poter lottare qui con la vita, però la scelta è negativa, lascia il segno che si mette in questo momento, il tifoso ha bisogno di vincere lo scudente, ma questo non hanno un sanzo logico, non hanno mai respirato la vita, poi io faccio la professione sembra che sia il marino che prende la Roma e il centrocampo della Roma, prende il Napoli, lasciamo fare l'aiuto di un altro pianeta, e già di queste squadre ne vorrebbe tre o quattro, dovrebbe arrivare da solo a capire che gli altri sono meglio, sono più collaudati, sono più completi.